I Cooker De Danieli sono macchine semplici e versatili, che comprendono una vasta gamma di modelli e accessori, adatti alla lavorazione e cottura di qualsiasi genere di impasto, offrendo risultati sempre eccellenti. In questo filmato vedremo all'opera il Cooker De Danieli, modello CT30, per la produzione di torrone friabile. La macchina viene attrezzata e prediscaldata per l'inserimento degli ingredienti. Grazie all'innesto rapido, l'utensile specifico che hai dotato di spatola raschiante e corpo centrale fisso, si monta in modo semplice ed immediato. Inseriremo gli zuccheri come primi ingredienti e procederemo alla loro fusione attivando le funzioni di riscaldamento e miscelazione, andando a selezionare la temperatura corretta per la lavorazione. Completata la fase di fusione, aggiungeremo l'albume liquido regolando la velocità dell'agitatore per agevolare l'integrazione dell'ingrediente. Regoliamo la temperatura e impostiamo il timer per la fase successiva. Grazie alle azioni combinate del Cooker De Danieli, l'albume monterà perfettamente, assumendo il tipico colore bianco candido. Nella successiva fase di asciugatura, verificheremo il grado di friabilità della massa tramite prova di spaccatura. Nella fase finale, andremo ad incorporare la frutta secca in sole due riprese, ottenendo un torrone perfetto e pronto per il confezionamento. La funzione di rotazione della vasca renderà agevoli e sicure tutte le operazioni di scarico e pulizia. Da sottolineare come la pulizia della macchina necessiti dell'impiego di sola acqua. Questo video è stato realizzato con il Cooker De Danieli modello CT30, con sonda in vasca, disponibile nella gamma da 30 a 300 litri.